. Uomini e donne gossip, Sabrina Gio ha un nuovo fidanzato? Parla l'ex tronista. Uomini e donne gossip, chi è il nuovo fidanzato di Sabrina Gio? L'ex tronista smentisce. . È bastata una vacanza in Messico e qualche segnale strano per agitare il gossip. . Sabrina Gio di uomini e donne ha un nuovo fidanzato? Alcuni indizi sembravano inequivocabili ma la realtà è ben diversa. . In un'intervista rilasciata al settimanale Spy, l'ex ballerina di Amici ha smentito certi pettegolezzi ribadendo di essere ancora single. . Dopo il no del corteggiatore Niccolò Ragnolo, la bionda romana non ha avuto altre occasioni in amore. . Almeno fino ad oggi. . Perché Sabrina è un'inguaribile romantica e all'età di 32 anni crede ancora nell'amore, soprattutto in quello eterno. . Per il momento si gode la figlia di 5 anni Penelope, nata dal matrimonio con Federico. . . Ho trascorso l'ultimo dell'anno in Messico con un'amica. . Pochi giorni per staccare la spina e nessun fidanzamento in vista, al contrario di quanto hanno scritto alcuni siti o magazzine. . . Sono single ha assicurato Sabrina alla nuova rivista edita da Mondadori. . La Gio ha pure rivelato di non essersi pentita di aver scelto Niccolò, l'unico ragazzo che alla corte di Maria De Filippi le ha trasmesso qualche emozione. . I suoi occhi mi ricordavano mio padre Maurizio. . Con lui ancora oggi non ho un buon rapporto. . Sapevo che non era un ragazzo facile, ma dentro di me era subentrato l'animo da croce rossina. . Però evidentemente non ha funzionato ha dichiarato la giovane. . Uomini e donne, Sabrina Gio va avanti con la sua vita. . Archiviata l'esperienza al trono classico, Sabrina è tornata alla vita di sempre. . Qualche tempo fa si parlava di una probabile partecipazione all'isola dei famosi ma, secondo i rumors, la Gio avrebbe rinunciato per stare vicina alla figlia Penelope. . . . È l'amore della mia vita ha sentenziato l'extronista. . .